buona giornata amici ben trovati alla rassegna stampa di fano tv oggi è mercoledì 18 ottobre 2023 tante tante le notizie anche oggi sui giornali abbiamo molta cronaca qualche notizia di politica e anche qualche curiosità lo vediamo dopo prima però passiamo attraverso l'almanacco del giorno e vediamo chi si festeggia oggi ebbene è un santo il cui nome è molto attuale ancora oggi tantissimi si chiamano luca san luca san luca evangelista nacque ad antiochia in siria era medico un un esperto un conoscitore della scienza medica di allora fu evangelizzato da paolo mentre si trovava nella troede per esercitare la sua professione san luca era uno che viaggiava molto ebbene scrisse il terzo vangelo in lingua greca viaggiò molto abbiamo detto in macedonia dalmazia italia e anche in gallia era anche pittore e molte sono le molte nel modo di dire sono diverse diciamo così le i quadri le raffigurazioni della madonna che si attribuiscono a san luca durante la prigionia di paolo a roma scrisse anche gli atti degli apostoli morì in bitinia a 84 anni fu sepolto prima di tutto a costantinopoli poi nella basilica dedicata dedicata a santa giustina a padova dove si trovano appunto le sue reliquie ebbene a padova c'è san luca quindi se andate a padova non andate solo nella chiesa di sant'antonio ma andate anche a santa giustina a trovare questo grande santo questo grande scrittore questo grande apostolo del dell'inizio della fede cattolica bene e ciò detto vediamo le previsioni del tempo eccole vediamo che il tempo è perturbato cieli molto nuvolosi con deboli piovaschi pomeridiani in serata ci saranno delle schiarite sono previsti due millimetri di pioggia un po sulla regione già questa mattina una pioggerellina fitta fitta invisibile però bagnava il territorio i venti saranno al mattino deboli al pomeriggio moderati la temperatura dai 13 ai 20 gradi il sole sorgerà alle 7 29 e tramonterà alle 18 e 23 giornate sempre più corte allora apriamo il resto del carlino sulla pagina di fano e vediamo l'apertura dedicata alla cronaca cercano il ladro e la rifurtiva ma in casa trovano anche un fucile ebbene i carabinieri i carabinieri di fano nel hanno fatto un controllo a calcinelli a calcinelli e hanno fatto un controllo perché era stato segnalato un furto e hanno docchiato una macchina con una targa sospetta hanno fatto delle ricerche e hanno visto che la macchina apparteneva a una vecchia conoscenza delle forze dell'ordine e allora che cosa hanno fatto sono andati nella sua abitazione e hanno trovato non solo la rifurtiva che cercavano ma anche un fucile da caccia non registrato e anche il proprietario non aveva alcuna licenza per la caccia e così inevitabile è stato l'arresto dopo un furto in via flaminia i carabinieri si mettono sulle tracce del bandito oggi la convalida dell'arresto ed ora parliamo di politica politica è il no di ser filippi alla lega insomma ha lasciato un po' la bocca amara questo partito che non si rassegna di sostenere le candidature di esponenti politici di altre forze politiche come possono essere stefano aguzzi oppure giuseppe de leo e a questo riguardo interviene il coordinatore regionale dei giovani mario alberto rinaldi che dice non ci possiamo fermare a stefano aguzzi o a giuseppe de leo la lega è ben strutturata e può benissimo proporre un suo candidato e intanto il massimo il sindaco massimo seri cosa fa non sta inerte anche lui raduna le forze del centro sinistra per stabilire innanzitutto un programma comune su cui convergere e poi cercare anche un candidato da frapporre a quelli del centro destra ci sarà una riunione per mercoledì prossimo alle ore 18 quando tutte le forze del centro sinistra il partito democratico le liste civiche e in comune si riuniranno per decidere e intanto ancora però non si è stabilita la data per le primarie che sembrava avessero già trovato un accordo tra tutte le forze politiche appunto di questa parte ed ora parliamo di arte parliamo di arte perché fano si appresta a rendere omaggio a un grande artista si tratta di emilio antonioni in via garibaldi una scultura per emilio antonioni a 55 anni dalla morte delle pittore fanese il comune ha dato l'ok al progetto del comitato che ha avanzato questa proposta è un comitato che è stato costituito dal figlio vittorio con i due fratelli claudio e andrea cinque anni fa un comitato che raggruppa a tutt'oggi circa un centinaio di persone e che il 5 ottobre dell'anno scorso non di quest'anno ha consegnato l'ufficio toponomastica di fano la richiesta di installare in città una statua bronza dell'artista e sarà una statua che ritrae l'artista seduto su una panchina accanto al quale ci si potrà sedere tutti tutti quelli che passano per via garibaldi si potranno sedere accanto di emilio antonioni e così assaporare l'idea dell'arte conoscere questo artista insomma rendere merito a chi ha dato veramente molto di sé con un senso molto molto alto e molto culturale in via garibaldi una scultura di emilio antonioni non antonini come è scritto in questo articolo probabilmente non ci stava la o la città onora i suoi beniamini segnalatici i vostri candidati è l'articolo che riguarda core cuore comune giunto alla seconda edizione un'iniziativa ideata dal sindaco massimo seri per premiare l'abbiamo detto anche nella giornata di ieri i cittadini benemeriti quelli comuni quelli che non si fanno notare ma che operano sostanzialmente per fare del bene la città onora i suoi bambini segnalatici i vostri candidati tutti coloro che hanno una persona che hanno notato fare del bene e quindi può essere premiata deve essere premiata lo può segnalare al sindaco e poi sarà valutata insieme ad altri ovviamente tutte quelle che perverranno da una commissione di tecnici e poi vediamo l'articolo che riguarda una conferenza stampa che è stata convocata ieri nella chiesa della casa della comunità del vallato il mondo è qui al vallato porte aperte ad ogni cultura ebbene roberto ansuini responsabile di apito marche ha convocato una conferenza stampa per illustrare questa bella iniziativa un'iniziativa sostenuta da ben 12 organizzazioni di volontariato c'è la caritas c'è tante altre associazioni che raggruppano anche i gruppi etnici presenti a fano sì perché è stata presentata la casa della integrazione un progetto un progetto che vuole aiutare tutti coloro che sono venuti a fano temporaneamente oppure stabilmente ad integrarsi a risolvere le difficoltà quotidiane insomma sappiamo benissimo che la maggior parte sono donne donne che difficilmente riescono a relazionarsi con gli altri c'è anche una difficoltà della lingua hanno tanti problemi problemi di carattere culturale di conoscere il mondo in cui si stanno per inserire non hanno dicevo hanno anche dei problemi di lingua e quindi questa casa della integrazione può tranquillamente risolvere i loro problemi 12 associazioni fanesi hanno dato vita a uno spazio di condivisione all'interno della casa intitolata don paolo tonucci e ci sono tutti gli appuntamenti il mondo è qui ha detto roberto ansuini il mondo è qui perché tutto il mondo è rappresentato ieri c'erano esponenti dell'ucraina c'erano esponenti del perù ma ci sono anche poi esponenti dell'albania insomma del dei paesi africani ci sono esponenti del mondo che si è riunito a fano e vuole vivere in questa città e soprattutto vuole dialogare nel senso della pace della cultura della condivisione aiutateci ad adottare questa famiglia somala è l'appello che ha lanciato maria chiera dell'oasi dell'accoglienza che da tanti anni opera per ospitare persone che giungono da altri paesi dai paesi poveri giunti appunto nel nostro territorio per farsi curare questa volta si tratta di una famiglia somala che è giunta a causa di una malattia di una malattia di un bambino è composta dalla mamma dalla figlia di 15 anni cardiopatica gravissima perché non ha potuto avere le cure necessarie nel suo primo anno di vita ebbene l'appello di maria chiera è quello di sostenere questa famiglia servono 20 mila euro ebbene chi può fare questa donazione può donare rivolgendosi al sito www.retedeldono.it e poi ci sono tutti gli estremi magari poi il titolo è più lungo adesso non sto qui a riassumerlo si può vedere in questo articolo qui a fondo pagina ecco qui è il punto dove è segnato tutti i riferimenti ed ora passiamo a mondolfo a mondolfo c'è una presa di posizione del vice sindaco carlo di otta levi che ha presentato un ordine del giorno un ordine del giorno contro la proliferazione degli impianti fotovoltaici nei terreni agricoli veramente una proliferazione che guasta l'ambiente guasta l'estetica guarda la bellezza dei nostri colli impianti fotovoltaici come margherite sorgono agricoltori corteggiati dalla società in realtà si guadagna più dare la disponibilità del proprio territorio per realizzare un impianto fotovoltaico che coltivare il terreno dal punto di vista agricolo ecco perché molti agricoltori sono seduti dalla società per convertire questa produzione il comune cerca di porre un freno vicino al mio e alla pershing decine di ettari di pannelli sono in arrivo ma ovviamente questo rovina tutto il territorio comunque c'è poco da fare c'è poco comunale di mondolfo ha approvato all'unanimità un ordine del giorno presentato appunto da di otallevi volto a chiedere interventi sia alla regione che alla provincia per cercare di frenare questa proliferazione però insomma c'è una legge che dà via libera perché anche questo è un come le antenne è un bene di prima necessità e quindi e quindi ci sarà poco da fare ho paura anch'io ruba al camping e si ubriaca arrestato dai carabinieri durante un sopralluogo gli uomini dell'arma hanno arrestato un giovane magrebino autore di un raid all'interno del camping cesano di marotta ebbene che cosa ha fatto questo extra comunitario aveva fatto man bassa di bottiglie di vino si era ubriacato aveva preso anche dei soldi 200 euro ma è stato scoperto appunto dai carabinieri ed è stato arrestato il tribunale di pesaro ha convalidato la l'azione fatta dalle forze dell'ordine dopodiché il giovane è stato rimesso in libertà insomma una prassi che ormai è abituale ai piedi della rocca di mondavio un defibrillatore che funziona pensate senza corrente ebbene uno strumento non necessita di corrente elettrica ed è collegato con l'allert al 112 e la manutenzione sia ordinaria che straordinaria è a carico di una società la solution ebbene nel centro di mondavio precisamente nella piazzetta che è all'ingresso delle di viale della vittoria ai piedi della rocca punto punto facilmente raggiungibile c'è un defibrillatore di ultima generazione quindi un sapete se qualcuno si sente male si trova in visita a mondavio oppure uno è residente di mondavio insomma questo è un apparecchio salva vita ed è importante utilizzarlo non servono particolari esperienze o nozioni andiamo ad urbino ad urbino si evidenziano i meriti di un personaggio un personaggio colpito da paralisi ma che ora è in vetta al mondiale per quanto riguarda il tiro a segno dalla paralisi al mondiale il miracolo di davide si tratta di davide fedrigucci che perse l'uso delle gambe dopo un incidente di moto ora a lima in perù ha vinto il titolo di tiro al volo per atleti disabili quindi a volte il tiro con i norma dotati riesce a vincere ugualmente questo questo atleta è un problema dice se fa molto caldo però insomma lo vediamo qui alzare la coppa della vittoria una bella vittoria che rende onore a chi con la costanza riesce a superare tante tante avversità e parliamo ancora di sport perché a Ferminiano il comune è entrato nel progetto della società statale dedicata al moto si va dal crossing training più discipline alla pallavolo e altro saranno allestite a Ferminiano a fine mese delle isole e poi dalla primavera prossima nell'area verde del pala bcc serve il certificato medico questo è quanto appunto si fa per l'attività sportiva a Ferminiano tiriamo ancora la pagina e vediamo come a Sant'Angelo in vado il comune reagisce a quelli che non osservano le regole per il deposito dei rifiuti rifiuti ingombranti vengono ritirati a casa ma ciò nonostante c'è chi li abbandona fomentando delle discariche abusive vedete qui questa fotografia che è molto significativa abbandoni i rifiuti ora però arriva la stangata una bella stangata che si impenna si passa da 600 euro di multa a 1000 euro le guardie ecologiche eppure ci sono le aree di raccolta molto molto accessibili che però non vengono usate quindi ora chi abbandona e viene sorpreso che abbandoni i rifiuti viene sorpreso sul fatto paga multe multe salate più trekking meno sci e il turismo sostenibile la soluzione per quanto riguarda Cantiano Cantiano veramente è un'effervescenza di iniziative in questi giorni tra la mostra dei cavalli tra il tartufo insomma tra questo bellissimo contesto ambientale in cui è inserita la città bene destra attenzione ed è soprattutto la volontà di risorgere dopo i terribili guasti dell'alluvione vediamo anche qualche notizia che riguarda Pesaro anzi vediamo restiamo a Ferminiano dove ha destato grande grande sensazione l'assalto che ha subito un cittadino che aveva appena redarguito un'automobilista per andare perché andasse più piano la Laura in fisica e la violenza cieca Simone picchiatore senza un perché aggressione shock la storia del 37enne arrestato da brillante studenti di materie scientifiche a taciturno Bidello ora l'attenzione mentre ieri l'attenzione del giornale si era soffermato su Matteo Bastianelli la vittima di questo atto di aggressione oggi invece ci sofferma sull'aggressore si tratta di Simone Babboini 37 anni accusato ora di tentato omicidio e qui c'è un po' uno spaccato della storia di questa persona già si pensa a Natale la pista di ghiaccio torna a Pesaro ma in largo Aldomoro ieri l'annuncio da parte del responsabile eventi Massimiliano Santini niente pattinaggio in piazza quest'anno impegnata dal Maxi Palco per la diretta Rai vediamo come Pesaro poi si appresta a organizzare tante iniziative per il prossimo anno stretti come Sardine si ritorna così a evidenziare il problema dell'affollamento degli autobus del trasporto pubblico sul resto del Carlino nella pagina di oggi un incubo sugli autobus ancora segnalazioni sulla tratta Pesaro-Urbino la rabbia degli studenti ancora Lami e Adria Busto non hanno risolto questo problema nonostante che con le prime proteste si era cercato di trovare una soluzione ma ancora i problemi restano ed ora vediamo il Corriere Adriatico nuova ciclabile di Viale Kennedy avanti con il progetto esecutivo la Giunta approva per 275 mila euro la ristrutturazione della pista ciclabile che percorre Viale Kennedy una delle prime realizzate dall'amministrazione comunale seppure con una riga per terra una pista ciclabile che dovrebbe proseguire sulle marciapiede di Via Roma fino a Porta Maggiore è la naturale prosecuzione di questo itinerario che comporterà certamente un miglioramento per quanto riguarda la sicurezza ma anche alcune problematiche come lo spostamento dell'edicola vicino al Ponte Storto che dovrebbe trovare un'altra soluzione spostamento in bici Fano si classifica quarta il Giretto una iniziativa a livello nazionale di Lega Ambiente vede Fano collocarsi al quarto posto è un tipo di mobilità che riguarda il 5% dei residenti e riguarda soprattutto le statistiche le indagini che sono state fatte nei trasferimenti casa-lavoro casa-scuola per vedere appunto come si organizza questo momento topico dell'alto traffico che appunto accade nelle ore stabilite della città 500 metri, due antenne anche Fenile adesso si mobilita una manifestazione sabato prossimo nella frazione un impianto già installato un altro annunciato anche Fenile dopo Carignano evidenzia la sua protesta per quanto riguarda la possibilità di erigere questi due altri grandi impianti c'è stata una riunione anche con il comitato di Carignano per valutare un fronte comune contro i ripetitori del 5G e parliamo di un altro giro dopo aver parlato del giretto questo invece è il girone perché ovviamente si parla del Giro d'Italia Giro d'Italia prima riunione tecnica ieri in Comune per organizzare la tappa di Fano il sindaco ovviamente è soddisfatto avere una tappa è un momento di grande promozione per tutta la città accolta le nostre richieste per valorizzare la città ha detto Massimo Seri giriamo la pagina e andiamo a Fossombrone a Fossombrone mille buche per San Gervasio l'assessore la gara già svolta protesta un residente della frazione di Fossombrone Chiara Belli promette i lavori ebbene che cosa è che si protesta si protesta la situazione si protesta contro la situazione di una strada una strada che è molto ammalorata al limite dell'impraticabilità per la frazione di San Gervasio a Fossombrone tutto nasce da una lettera di protesta di un residente che è stata recapitata alla stampa che coinvolge con un post anche l'assessore e lavori pubblici Michele Chiara Belli che ora spiega un attimo quali sono le intenzioni dell'amministrazione comunale torniamo a Fano ma vediamo anche un'iniziativa che riguarda tutto l'ambito sociale ASP mancano tre comuni lo scoglio di Mondolfo l'amministrazione Barbieri chiede il rafforzamento con un dirigente part time vanno a rilento dunque le adesioni all'ASP la futura azienda per i servizi alla persona che dovrebbe sostituire l'ambito ebbene qui ci sono dei comuni che nicchiano tra questi c'è anche Mondolfo stop al fotovoltaico nei campi tuteliamo cultura e paesaggio vediamo che anche il Corriere Adriatico evidenzia un po' le proteste di Mondolfo in merito alla proliferazione degli impianti fotovoltaici in agricoltura allora vediamo anche la pagina di Senigallia un cavo beffa telecom stringe i tempi siamo sulle ponte Garibaldi che dovrebbe così essere oggetto di lavori ma qui veramente è una lunga telenovela di cui abbiamo parlato spesso e i lavori ancora tardano a essere realizzati e mentre li aspettiamo noi terminiamo la nostra rassegna stampa dandovi appuntamento come sempre alle ore 7 di domani grazie per l'ascolto a risentirci